Telemedicina e medicina di prossimità al centro di un incontro a Benevento dove sono state presentate nuove tecnologie come una canotta high tech che registra i miei parametri del paziente al medico di base. Sanità protagonista dunque in provincia di Benevento grazie anche ai fondi del PNRR con nuove strutture ma ora serve il personale. Servono fondi, serve ridisegnare l'organico altrimenti gli sforzi saranno vani. Ha bisogno di mettere al centro il medico di famiglia, la medicina territoriale, un maggior rapporto con gli ospedali e una migliore tutela soprattutto delle pazienti più fragili quindi un miglioramento dell'assistenza domiciliare però soprattutto ha bisogno di personale tipo gli infermieri di famiglia, ha bisogno di assistente amministrativo perché la medicina generale è diventata estremamente burocratizzata. Il componente della Commissione Sanità e Regione ha poi rimarcato l'importanza di rivedere il piano ospedaliero dopo la gestione ferrante con l'insediamento della DG Morgante. Sapete benissimo la battaglia che abbiamo avuto sui ospedali San Pio per quanto riguarda gli assistiti, le parti chiusi, volevo ricordare che ci sono circa 130 posti letto che sono stati inutilizzati mentre a pronto soccorso ci stavano 40-50 persone in attesa tra 3-4 giorni per poter essere ricoverati. Presente al convegno è anche il sindaco Clemente Mastella che ha rimarcato l'importanza della medicina di prossimità. Ritengo che la centralità della persona all'interno del mondo sanitario sia fondamentale e soprattutto è una persona anziana che ha maggior bisogno di avere maggiore attenzione, maggiore cure, maggiore disponibilità da parte delle strutture sanitarie, dei medici, degli infermieri e di quanti altri.